Esiste una regione tra la luce e l'oscurità, tra la scienza e la superstizione, tra lo scuro baratro dell'ignoto e le vette luminose del sapere. È la dimensione dell'immaginazione, è una regione che potrebbe trovarsi ai confini della realtà. Africa, 1943. La guerra manifesta in cielo la sua violenza e una tomba di sabbia le inghiotte. Si chiama Re 9, è un bombardiere B-25 del dodicesimo stormo. Un caldo mattino era decollato per bombardare la costa meridionale della Sicilia, ma ogni suo tentativo di seguire la rotta fallì, perché colpito al serbatoio ausiliario, come un animale ferito cadde qui e non si risollevò mai più. La guerra manifesta in cielo la sua violenza e la sua violenza. Ora ricordo, o almeno ricordo qualcosa. Colpito il serbatoio ausiliario, tutto il carburante è andato perduto. L'aereo è rimasto indietro. È uscito fuori rotta ed è atterrato così. E l'equipaggio? Dov'è l'equipaggio? Si sono lanciati. Gli ho ordinato io di lanciarsi. No, no, non l'ho fatto. C'eravamo tutti, tutti quanti. Io? 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 Io sono James Embry, il capitano. Ecco chi sono io. E poi Black, copilota. Kransky, radiooperatore e artigliere. Imenes, navigatore. Conners, artigliere di cota. Klein, artigliere in torretta superiore. Vediamo. Chi altri? Chi altri? Blake! 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 Imenes! 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 Conners! Kransky! Klein! Jimenez! Imenes! Ehi! 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 Calma, calma, devo ricordare, devo ricordare. Devo ricordare.